Ieri, vedendo SkyTG24, dando un'occhiata, mi sono stupita perché il giornalista parlava con sicurezza della Polonia e dell'Ungheria che vanno contro i valori fondanti dell'Unione Europea. Oggi vari giornali parlavano, sì, dell'Ungheria e della Polonia che contrastano con lo stato di diritto che tutti noi, giustamente, affermiamo in Unione Europea. Sarebbero come degli extraterrestri capitati per caso da noi, per di più, extraterrestri che vogliono approfittare dei fondi comuni senza condividere l'ideologia comune. I giornalisti però non specificano in che cosa consisterebbe l'affronto di Polonia e Ungheria ai principi fondanti dell'Unione Europea. In che cosa consiste questo affronto antidemocratico? Se vediamo la comunicazione numero 698 del 12 novembre di quest'anno, licenziata dalla Commissione Europea, ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando anche. Infatti, questa comunicazione prevede che tutti gli stati membri debbano avere il reato di un'omofobia, che tutti gli stati membri debbano riconoscere l'omogenitorialità, che tutti gli stati membri quindi debbano ammettere il matrimonio omosessuale. Per di più, questa risoluzione della Commissione prevede l'assegnazione di LGBTQ equality perspective, cioè fondi, da dare a queste associazioni così benemerite dell'umanità, così benemerite dello Stato di diritto e dei valori fondanti dell'Unione Europea, bisogna dare a queste associazioni una parte dei fondi del Recovery Fund. Ma che cos'è il Recovery Fund? È quel fondo straordinario costruito per aiutare le nazioni che sono a terra come noi, grazie al Covid. Quindi, diciamo, questa comunicazione della Commissione europea è veramente curiosa, è veramente curiosa anche perché lega il finanziamento delle varie nazioni, dei vari stati, all'acquisizione delle legislazioni di questi stati, di questi principi che la Commissione europea ritiene fondanti dell'Unione, cioè il reato di omofobia e via dicendo. Allora, è evidente che qui si sta esulando completamente dallo spirito fondante dell'Unione Europea, dallo Stato di diritto, completamente. E per di più si fa un ricatto, si dice se tu non accetti questi principi io non ti do i soldi. Questo è un principio democratico? Beh, insomma, che stanno facendo la Polonia e l'Ungheria? Stanno difendendo le radici cristiane e le radici umane dell'Unione Europea e della storia dell'Europa. Questo stanno facendo. Un'azione benemerita.